nei confronti delle donne, credo di essere una di quelle che sta sempre in prima linea sia nelle cose che si vedono ma soprattutto in tante cose che non si vedono quindi credo con i fatti di aver fatto e di continuare a fare tanto per le donne per quanto mi riguarda io ho sempre vissuto la mia femminilità, mi chiesto questo? in maniera molto naturale fortunatamente mia mamma che è una grandissima femmina, una grandissima donna mi ha insegnato a non basarmi né sull'esteriorità e neanche sul giudizio che gli altri mi impongono sulla mia esteriorità e credo che lo dovrebbero fare tutte le donne, solo e soprattutto ci sono tante donne che sono fragili e ci sono anche tante persone che sono cafone, maleducate e ignoranti e ancora usano il corpo della donna come motivo di insulto e questo mi dispiace molto ma mi dispiace più per loro che sono dei poveretti e quindi